Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove mi vedrete in vari video con questa postazione ma i video usciranno in tempi diversi perché ho girato più video, non è che sono pazza tutti i miei video sono pre-registrati quindi se vedete i video strani dove ho i capelli diversi e perché i video sono pre-registrati e li pianifico man mano, a volte vengono mischiati quindi un video di un mese fa viene messo magari prima o dopo, durante, insomma, così voglio parlarvi di questo argomento che per me è importante ovvero come mi ha cambiato questa esperienza della quarantena e sì, mi ha cambiato perché per quanto riguarda me mi ha cambiato veramente tanto nel senso che ho capito cosa voglio di più della vita mi ha fatto capire cosa desidero di più le cose che prima magari ditevo per scontate o che mi lamentavo, io mi lamentavo veramente tanto il mio ragazzo lo sa mi lamentavo che facevo sempre le stesse cose che mi annoiavo, volevo viaggiare, volevo prendere il treno adesso invece apprezzo, ho fatto riprendere anche solo il pullman mi ha fatto veramente apprezzare quelle cose che prima davo per scontate o le sminuivo a volte adesso veramente mi mancano tantissimo le mie serate con le miniche mi mancano le serate che facevo con il ragazzo all'aperto io ero sempre fuori, ero con i miei ragazzi con i centi commerciali, in giro a caso, a perdere i pullman mi manca veramente tanto questa vita perché io in casa veramente ci sto poco o quando sto male o a volte quando magari devo fare delle cose quindi sono costretta mi manca veramente tanto il fatto di spostarmi liberamente però ho riscoperto tante cose ho riscoperto il fatto che mi piace molto fare video su youtube e se l'ho concentrata tantissimo su youtube come potrete notare ho riscoperto tanto molto il fatto di chiamare le persone ultimamente chiamo molto le persone e non le messaggio più o faccio vocali ovviamente le mando foto, vocali, le chiamo tanto ho anche rilasciato molte amicizie che prima avevo chiuso e ne ho chiuse altre che prima avevo aperto insomma ho fatto un po' un cambiamento nella mia vita ho impiato a farmi tipo la ceretta da sola in maniera un po' strana ho cercato anche di imparare a farmi le unghie con scarsi risultati però anche se comunque dai ci si abbozza mi sono anche fatta i capelli ho imparato un po' a gestirmi ho imparato a gestire a volte le mie testezze, la mia rabbia, le mie depressioni, i miei momenti di umore un po' così il fatto comunque di vivere brevemente in casa a parte quando uscivo a fare la spesa il fatto dovevo indossare la mascherina e sembrare che faccio le rapine ho scoperto tante cose il fatto di cambiare molto le mie abitudini e spero che questa cosa passi in fretta perché comunque sì mi sono quasi, non dico quasi abituata, ma quasi però mi manca tanto, la mia vecchia vita mi manca veramente tantissimo però ho scoperto davvero cosa voglio della vita ho scoperto riflettendo, essendo a casa cosa mi piace fare, cosa potrebbe rendermi felice e penso che questa sia una cosa molto importante che tutti noi penso possiamo riscoprire stanno un po' per conto nostro il fatto che comunque certe amicizie sono importanti il fatto che magari abbiamo trascurato alcune cose di noi stessi che magari stiamo facendo delle cose che magari non ci rendono felice o delle cose che magari dovremmo fare che ci rendono felice tanto, tanto, tanto altro come anche il fatto che potrebbe essere stupido magari diamo per scontata delle cose che prima non le davamo il fatto di apprezzare tutto io penso che la cosa più importante sia apprezzare tutto apprezzare un abbraccio apprezzare un bacio apprezzare una serata fuori io veramente ripeto mi manca veramente tanto quella parte della mia vita perché io ero sempre fuori io ero sempre fuori con i ragazzi con le mie amiche a mangiare il look in it se non le cose stupide io non sono una persona che ovviamente non bevo quasi mai negli ultimi anni non bevo cioè a parte lo spritz o l'aperitivo ma non sono una persona che beve non mi ubriaco più perché quel periodo l'ho passato ormai e non sono una persona che nemmeno si fa le canne o queste cose qua almeno in tutti i periodi della mia vita ho avuto dei periodi in cui magari mi riempio di pickersing mi riempio di quello mi bevevo adesso sono un'unica persona che non lo faccio da tantissimi anni anzi ultimamente prima della quarantena stavo addirittura male se bevevo di drink perché il mio sommo rifiutava categoricamente l'alcol il mio sommo è diventato a stemio bevo ogni tanto il vino bianco se cos'è qua ma non sono un'unica persona che appena esco mi sbronzo eccetera no appena finirà tutto penso a passare una serata a fare tutto quello che voglio andrò al cinema a mangiare il sushi uscerò con tutte le mie amiche col mio ragazzo però sezzo sì perché è vero fa parte anche quella della vita tu nessuno lo dice ma anche quella fa parte della vita farò tutte le cose che vorrò fare mi manca tantissimo fare shopping ragazzi andare nei negozi nei centri commerciali cose che prima odiavo non lo sopportavo più è la cosa che poi ovviamente vorrò fare che mi incatenino quando si potrà passare da una regione all'altra andamela al mare me ne andrò al mare dormire in spiaggia a costo di mia multa io me ne andrò al mare perché ho sempre rimandato e stavolta ho imparato che non bisogna rimandare mai le cose quando vuoi fare una cosa la fai falla falla e basta perché se la rimandi poi capite come me che sono deficiente e poco prima della quarantena ho detto no dai non vado al mare perché poi i soldi mi servono vaffanculo a me Sara poi devo pensarci prima e invece vabbè però comunque sono stata contenta che prima della quarantena sono riuscita a vedere alcuni dei miei amici perché poi però spero di vedevi tutti presto perché è cambiato molto molto cambiato in questi mesi e niente io spero che anche voi vi abbiate appreso qualcosa da questa quarantena se si scrivetevi nei commenti se no ci sentiamo su Instagram se volete che sia privato se no ditemi anche voi se vi è cambiato in qualche modo come l'avete passata e tutto il resto io vi saluto non voglio che il video sia lunghissimo perché ne ho già fatto uno lunghissimo e voglio che sia un po' più brava io vi saluto e spero che questa situazione si risolva più presto che possiamo tornare tutti a vederci e non dico ad abbracciarci perché non amo abbracciare le persone amamo abbracciare solo il mio ragazzo però in questo caso farò un'eccezione dai se volete abbracciarmi vi abbraccerò o almeno farò uno sforzo per abbracciarvi e finalmente riuscirò a vedere Sara delle mie care amiche delle mie attività che non l'ho mai vista nella mia vita sì perché ho un'amica che io veramente ci tengo veramente tanto che non l'ho mai vista di persona perché purtroppo per santi impegni e poi la quarantena io non l'ho mai vista di persona eppure con lei abbiamo un bellissimo rapporto nel senso che ci sentiamo sempre ci messaggiamo ci facciamo le battutine ci diamo consigli purtroppo non l'ho mai vista nella realtà e la nostra amicizia è andata in un momento in cui eravamo impegnate e poi ci stava la quarantena è stata veramente strana questa cosa quindi sarà un effetto strano vederci però abbiamo un feeling abbastanza comunque comunque abbiamo un carattere abbastanza simile nonostante abbiamo comunque un'età diversa però comunque io ho amici di tutta l'età grandi, piccoli quindi penso che l'età sia solo un numero non ho amici di 10 anni però ho sia mie amiche più grandi sia più piccole quindi niente con questo io vi saluto e spero che finisca presto questa quarantena ragazzi voglio 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 andarmene via voglio uscire di casa voglio fare after after nel senso di tornare tardissimo a casa e senza tutto proprio la mascherina si deve ancora fare ma io quando ci diranno che non si potrà più usare la mascherina veramente sarò felice mi truccherò tutto mi metterò un clio di rossetto mi metterò a parte questa cosa che mi è venuta per lo stress vi saluto e un buon giornato a tutti e un buon giornato a tutti